Un cordiale saluto dalla redazione di Flores Multimedia, in studio Marco Gargini. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale toscana e sulla PPLI. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori 3 km 53, 50 e 51, 400 tra Firenze in Pruneta e San Casciano Nord in direzione Siena. Sulla statale Trebbistiberina, perdita di carico tra Madonnuccia, Poggiolino e Pieve Santo Stefano Sud in direzione Ravenna. Infine per i treni, il regionale 23383 dalla Spezia a Firenze e Santa Melonovella viaggia con 66 minuti di ritardo, arrivo previsto alle 17.13. Il regionale 23483 da Pontremoli a Firenze e Santa Melonovella viaggia con 20 minuti di ritardo, arrivo previsto alle 17.32. Muoversi in Toscana Info, servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!